Voci.fm, il sito delle voci. E un buongiorno a tutti gli utenti di Voci.fm, il sito delle voci. Sito che tra l'altro si rinnova quest'anno dal 15 aprile con una veste nuova, una grafica completamente nuova e delle voci anche nuove. Ma noi qui in questa intervista abbiamo una nostra vecchia conoscenza. Vecchia chi? No, nel senso vecchia, nel senso che lei è iscritta da tanto tempo al nostro sito delle voci. Abbiamo qua con noi la bravissima doppiatrice speaker, Alessandra Prandi. Ciao Alessandra! E ciao, buongiorno. Si è arrampicato sui vetri. È il destino di noi uomini. Allora Alessandra, io intanto sono contento di averti qui. Anch'io moltissimo. Io e lei mi prendo la confidenza perché ci conosciamo da un bel po' di anni. Abbiamo fatto un corso assieme di doppiaggio. E a proposito di questo, raccontami un po' come ti è nata la passione che ti ha portato poi a lavorare con la voce. La passione, la passione, la passione. Allora, hai detto giusto, vecchia. Cioè ho un'età. Questo bisogna ammetterlo, ma è un'età che porta esperienza. Io ho cominciato come attrice. A 16 anni ho fatto il mio primo corso di recitazione. Ho fatto poi la scuola dopo i 20 anni. La scuola, una scuola qua a Torino di Arnoldo Foa con degli splendidi insegnanti e tuttora attori torinesi come Michele Di Mauro tra i tanti. Ma non voglio offendere nessuno. E poi è venuta questa passione per la tecnica vocale, per la voce e ho cominciato a lavorare in radio. Quindi negli anni 90 ho cominciato con una piccola radio che non esiste più. Stiamo parlando di Radio Piemonte e poi Radio Energy dove effettivamente ho imparato il mestiere perché seriamente erano i professionisti e noi prendevamo gli intro con i vinili. Quindi bella cosa e poi ho fatto un paio d'anni però parecchi anni successivi a Radio GRP che è una radio regionale. E la passione è stata quella, un po' a causa di forza maggiore perché non è sempre facile fare teatro, non è sempre facile fare cinema. E poi negli anni qualche esperienza ho continuato a farla ma la voce per me è una passione. Quindi che sia il piccolo spot che sia il nazionale ci piace, ci piace tanto. Che cosa ti piace di più di lavorare con la voce? Tu ovviamente fai tanti spot pubblicitari, lavori anche nel doppiaggio, fai diverse cose. Qual è la cosa che ti piace di più tra queste? Devo ammettere che ultimamente mi piacciono gli audiolibri. Gli audiolibri? Ah, bellissimi gli audiolibri. Però mi piace tutto, per cui dai tutorial ai documentari agli spot mi piace fare tutto. È una cosa brutta che ho detto. No, 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 anzi, anzi, il nostro si sa è un mestiere comunque fatto di tante cose, di tante sfumature, di tante delizie. Cioè la voce è parte del nostro corpo, cioè corpo e voce sono due cose unite. Quindi alla fine è bello poter fare diverse cose e non... È il nostro strumento. È il nostro strumento. Io dico sempre che comunque ognuno è il suo, no? Esatto. La passione per il proprio mestiere è che sia quello dello speaker ma quello del panettiere, dell'attore, del cantante o del meccanico pur sempre una passione. Ogni mestiere, secondo me, ha un suo perché. Sì. E noi abbiamo scelto questo, scusami. Diciamo che in questo ci divertiamo, insomma, forse un po' di più, diciamo, ecco. Eh sì, sì, sì. E beh, poi fare il mestiere che si è scelto è sicuramente la cosa più bella, no? Esatto, assolutamente. E non facile. E non facile. Assolutamente non è facile, però noi non demordiamo e continuiamo a farci sentire, a farci conoscere. E tra l'altro, a proposito di questo, adesso sentiamo, farai sentire a tutti gli utenti quanto sei brava. Io lo so, ovviamente, quanto sei brava, però qua io ho un fogliettino con un po' di scioglilingua famosi e adesso tu ce ne leggerai qualcuno. No, ti ringrazio perché così è proprio veramente, mi so giocata la carriera così, è proprio da adesso in avanti non farò più nulla. No, no, dai che sei bravissima. Allora, vado, memoria no, però proviamo questo, che questo è quello più conosciuto. Esattamente. Io vado, eh. A pelle figlio di Apollo fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio di Apollo. E beh, voglio dire. Con l'età tra qualche anno ho bisogno dell'ossigeno. Ma no. Adesso, rileggi questa frase, facciamola un po' più divertente, rileggi questa frase e fammela come se fossi un topino di un cartone animato, sai quelli tutti carini, tutti... Ci proviamo. Prova, prova. Proviamo. Vediamo un po' come viene. Vorrei che la facessi anche tu però, eh, che non è bello che faccia tutto io. Va bene, ok, va bene. Allora ti seguo a ruota. Allora, proviamo così. A pelle figlio di Apollo fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio di Apollo. Eh, brava. Adesso lo faccio io. Dai, proviamo. Provo, provo. A pelle figlio di Apollo fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio di Apollo. L'hai fatta meglio tu. No, no, è bene. Con la voce maschile è anche diversa. Diciamo che se uno stringe può arrivare. Però è divertente. E beh, ma caspita, l'ha letto adesso, eh. Non è che... Non eravamo preparati. Non eravamo preparati. Eh, vabbè, vabbè. Sei stata più brava tu, ovviamente. Questo è logico. Allora, senti. Facciamo un'altra cosa divertente. Allora, mi rileggi questa frase, visto che tu sei una bravissima speaker, però me la leggi come se dovessi pubblicizzare una cosa figa. Per esempio, una bella auto. Ecco, come la diresti? Vado? Sì. A pelle, figlio di Apollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a gala per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio di Apollo. Eh, beh, quando la posso comprare questa macchina? Cioè, mi hai convinto. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Tra l'altro, ecco, mi aggancio a questa cosa. Tu sei una bravissima speaker, l'abbiamo sentito. Che cosa dici un po' dei lavori che hai fatto? Lavori, lavori, beh, spot nazionali vari, ma li potete vedere naturalmente sul nuovo sito dal 15aprile, voci.fm, sul mio curriculum, perché non è bello fare pubblicità ai marchi, non bisogna dirlo. Ok. Per quegli spot e poi sicuramente ho fatto qualcosa al cinema. Ah, e che cosa hai fatto? L'ultima cosa, il padre d'Italia. Sempre come voce? Marinelli, no, come attricia. Ah, e beh, allora. Per fortuna ho fatto anche quello. E poi, guarda, io sono convinta di una cosa. Che ogni giorno imparare qualcosa, continuare a studiare, continuare ad allenarsi è fondamentale. Infatti adesso ho cominciato un workshop su Strasberg e sono molto contenta. È un impegno, però come diceva Edoardo, gli esami non finiscono mai e quindi bisogna sempre imparare tutti i giorni. Perché, come dicevi tu, bisogna essere preparati per fare questo mestiere. Allora ti chiedo, quali sono i requisiti che deve avere un doppiatore, uno speaker per fare questo lavoro? Allora, assolutamente il corso di edizione. È importante. Sì, è fondamentale ed è importante avere comunque degli insegnanti validi. E poi, certo, sul campo, se si hanno le possibilità di mettersi alla prova, di fare qualche turno, seguire i turni di doppiaggio. Perché, comunque, doppiaggio ci sono dei personaggi che, come si sono messi davanti al microfono a doppiare, hanno doppiato perfettamente. Non è solo questione di sync, ma entrare in un personaggio. Quindi la recitazione e studiare è importante. È importante. Assolutamente. Quindi, cosa consigli, appunto, ai giovani, quelli che magari vorrebbero intraprendere questa strada? Una cosa sola che è importante che dovrebbero seguire, a parte lo studio, quelle cose che abbiamo detto. Ascoltare molto. Ascoltare è fondamentale. Eh, beh, sì. Ascoltare. Bisogna rubare, rubare questo... Rubare. Non volevo usarlo come termine, che fare brutto. Però è così, è un mestiere in cui si ruba e tutti i grandi, alla fine, hanno rubato dagli altri anche più grandi, perché alla fine è così. Bene, bene, bene. Allora, io ti ringrazio moltissimo, Alessandra, per essere stata qui con noi. Sei stata molto gentile e anche carina prestarti a questo giochino un po'... Un po'... Un po' hard. Hard, esatto. Non lavorerò più da questo momento. Grazie a te, sei stato gentilissimo. Anzi, sono sicuro che ti chiameranno da adesso in poi in tanti nel nuovo sito di Voci.fm. Ci saremo dal 15 aprile, sia io, Alessandro Delfino, che lei, Alessandra... Alessandra Prandi. Ciao. Un saluto da Alessandro Delfino. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm. Gratis su App Store e Google Play.